Ciao, Cicco Gallo! Ciao, Cicca Delivery! Buonasera! Ah, no, devo dire buonanotte a quest'ora, no? Ah, più o meno, ci sei andata vicino. Buonanotte e buenas noches! Che? Sì! Ah, bene, allora è tutto il contrario. Questo vuol dire che ho bisogno di un maestro personale, perché la verità è che sono proprio pessima. Mi sembra che sì. Ma però, tu conosci qualcuno? Certo, certo, e lo sai, molto presto arriverà a Buenos Aires, e mi hanno detto che è il migliore del mondo mondiale. Ah, mondo mondiale, molto bene. Però, aspetta, questo vuol dire che stai per tornare. Che bello, perché anch'io sto per tornare. La verità è che sono stata bene qui in Messico, guarda. Vediamo. Sono arrivate? Sì, mi sono arrivate, wow, wow, stupendo. Sai, Luna, anch'io ho girato un po' l'Italia, ho fatto il bagno nelle grotte di Capri, ho patinato un po' per le strade di Roma, e poi, sai, sono stato nella mia caffetteria preferita, dove fanno il miglior caffè ristretto del mondo. Incredibile! Wow, che bello! Sai, a me piacerebbe conoscere l'Italia. Beh, dovresti, è bellissima. Ah, e sai, ho incontrato una ragazza super mega iper divertente, una tipa giusta, e siamo stati alla grande. Che bello. Che ti prende? Niente. Non mi dire che sei gelosa. Che? Gelosa io? Per niente, io non sono gelosa. Sicura? Sì. Comunque non ti preoccupare, perché quella ragazza è Flor, mia cugina. Ah, tua cugina. Sì, sì, scusa, ci sono rimasta male, perché pensavo che ti fossi già dimenticato di me. Che? Ehi, come ti viene in mente? Sai, io ho ripensato molto, moltissimo al finale della gara. È stato incredibile o no? Tu dici la gara o il bacio? Avanti, raccontami un po'. Sì, sì, mi ricordo del bacio e mi emoziono. La verità è che mi manchi molto. No, molto no, no. No? Un pochino. Un pochino? Un pochettino, 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 tititino. E a te? Anche a me. Mi manchi molto. E ho molta voglia di rivederti. Anche io, Cicco Gallo. E ovvio di ballare sui pattini. Ah, bene, allora questo è un appuntamento, eh? Ok? Ah, bene, bene. Allora vediamo presto, Cicca Delivery. Vai, Cicco Gallo. Ti voglio bene. Io di più. Come stanno andando le loro vacanze? Scopri di più sull'app di Disney Channel e non perdere la seconda stagione di Soy Luna prossimamente a Disney Channel.